L'Abruzzo ha ancora i numeri da zona gialla, ma se i dati dovessero continuare a peggiorare, la situazione potrebbe presto cambiare. Per far scattare il livello successivo di restrizioni occorre che l'incidenza settimanale sia oltre i 150 casi ogni 100.000 abitanti, soglia questa superata già da giorni. Oltre all'incidenza però per la zona arancione occorre superare il limite sia dei posti letto occupati in terapia intensiva sia di quelli in area non critica. In Abruzzo sono 37 e in pazienti in terapia intensiva ne sono due in più rispetto a ieri, qui occupato il 19% dei posti letto, appena sotto il limite di 20. In area medica invece i ricoverati sono 349, 11 in più rispetto a ieri, il tasso d'occupazione al 26%, 4 punti percentuali al di sotto del limite. Oggi sono 3.610 nuovi casi registrati nella nostra regione, il 71% delle positività emerso dai soli tamponi antigenici, da meno di un mese sufficienti a riconoscere il contagio. Tra test antigenici e molecolari il tasso di erno di positività è poco sopra il 12%. Nelle ultime 24 ore inoltre, 2.681esimo decesso a causa Covid, si tratta di un 63enne residente fuori regione, 480 sono gli ultimi guariti. Dei casi accertati oggi in Abruzzo, 656 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 1.154 a quella di Chieti, 855 a quella di Pescara e 813 a quella di Teramo. 49 dei contagiati inoltre provengono da fuori regione, mentre per 82 persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. In base ai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, in Italia nella settimana tra il 5 e l'11 di gennaio c'è stato un incremento di contagi del 49%. Tra pochi giorni raggiungeremo il picco della quarta ondata, fanno sapere gli esperti.